Alle 6 mi avevano detto che me lo davano vivo Mi avevano detto signora domani si va a prendere suo figlio Stia tranquilla E alle 7 poi ho avuto la telefonata che mio figlio ha avuto un infarto Signora ma quando suo figlio è salito su Lei l'ha visto in stato un po' confusionale? No no non ho visto niente No 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 Ne sono accorto quanto mio figlio è andato a prenderlo io e via burla Lui ha guidato la macchina Però non riusciva a guidare Lo vedevo che non aveva i riflessi pronti Perché lui è gravissimo nella guida Da lì sua sorella ci fa che mia figlia è incinta Ci ha detto Giuseppe spostati che guido io Allì per lì è stato il fratello che gli dice Se sei incinta lascia stare guido io Al carcere ci ha detto suo fratello Quando sua sorella ha visto la guida Che non aveva i riflessi pronti Cosa c'hai? Ci fa spostati guido io Non stai bene Gli ha detto cosa c'hai? Lui mi ha detto no mi ha fatto una puntura Che la sto ancora squassando di 15 giorni E basta? Ma che figli hanno fatto? E quella di Reggio? Mi fa mamma le sto va qua Quelli che gli facevano in via burla non lo so Però loro mettevano che gli facevano una puntura di 15 giorni Per i rumori Per i rumori Per i suoni Il pomeriggio sono venuti a percoserle la casa? Sì Sì sono venuti che la polizia Hanno venuto controllare la casa Se c'è una delle Della roba A livello di stupefacenti Così Ti prendo il foglio Questo lo leggo Ma non hanno trovato niente Loro hanno trovato Hanno scritto esito negativo Però nel foglio Hanno scritto che il ragazzo è decesso Per abuso di sostanza stupefacente Come fanno a dire questo se al mattino alle sette A giorno sette mi telefono il direttore E il dottore mi ha detto che è stato per un attacco cardiaco Una persona generosa Amorevole Si faceva rispettare Un rapporto buono Una persona sempre disponibile Si spogliava anche per gli altri Andava anche in comunità mio figlio Non è stato mai un ragazzo di Di abbatterse nel problema Anzi Quando vedeva che lui incominciava a stare male Qui a Parma Se ne andava da suo padre E quando stava male da suo padre L'univa qui Non ha cercato mai di infognarsi Lui cercava sempre nel miglior modo Di affrontare il problema E di saltarci fuori E di saltarci fuori